musica le offerte dei rivali non saranno accettate i giocatori non saranno interessati a giocare per un club o una liga inferiore o no in che senso per esempio se tu vai a Chelsea sei tipo una squadra di serie B non lo dico per esempio il giocatori non trova danni ma comunque stavo in mobili terzi a mille terzi a mille un po' grandiata ah, nice, papà, vai a grandiata per ciruzzo, vai faccio questo mentino oh, i tipi stessi, i tipi stessi ma io non so dove la caccia è stata non ho trovato nessuna maniera ah, no, 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 nooo c'è stato il 2014 mi ha dato la caccia immobile cioè quello non ci potessi trovarlo Io sono un po' all'inizio, facevo quattro volte l'ho caduto. Facevo gli appostamenti alla casa dei genitori d'immobile però non l'ho trovato. Eh vabbè Paco, ma niente. Io cacco l'ho trovato al mare per cercarlo e non l'ho trovato. Infatti mi non va al mare a Roma. Lui va a Sabaudia, va vicino dove so io. Poi non so se è stato solo un caso che ci è andato solo una volta, non credo. No, è un caso, perché quelle le vacanze se le fa a Napoli, non se le fa a Roma. Perché c'è la famiglia a Napoli che fa Roma a vacanze, che pensi bene? Vabbè... Ma Paolo, l'ho caduto qualche venti volte. Oh, oh. Fatevi una voi, sto andando al ghiacciolo. Cosa? Fatevi una voi, sto andando al ghiacciolo. Ah, non è che ho tuitato perché ti sei impiazzato, no. Qui, anche. Però ho ritornato perché non lo voglio, sì. Mh. Lindo, guarda là. No, guarda. Mi sai che non mi qualifico. No, non ti puoi, cappotto. E che... Paolo, mi sa manco io. Guarda adesso. Ciao, ciao, ciao. Ehm, tutta la mia, guarda. Ehm... Ma io sto dietro di te. Esattamente dietro di te mi trovo, però... Sta gente di merda, se Paolo... Paolo si è abbassato, Paolo si è abbassato. Non ci credo. Si è spostato da là si è abbassato le due cose. Sì. Ehm... Non ci credo. Ehm... Guarda la mia... Non c'è... Non c'è... Non c'è... Non c'è... Non c'è... Quanti ne so capiti. Comunque se avete qualcosa su tifa, vedete che li vedete, che ti piego da riguardo, tipo gli errori si vengono sopra i 5.000 euro. Vedi che sei riguardo? Sì. No, è un giapaggio. È troppo aggianto veramente. Questo viola che bug. Cioè, ma come fa un HX adesso? Sì. Pagò! 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 Che ho detto io? No, no, è lo stesso posto che hai detto tu. Pagò! 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 Prega il video, non ti permette, ma chi è che si è messo il video, ha fatto il mio perfetto? Antonio. Ok, va bene. Dov'è Paco Armengono? Come vediamo. Sono caduto dopo un po' sotto. Un'altra pista. Bravo Paco. Paco bravo, fai fare l'oretto dei fichi. Che bravo Paco, corri. Corri Paco. Oh, ribastone, attenzione. Paco attenzione. Rallenta. Paco devi rallentare qua. Hai visto Gemini, hai visto? Non ci credo che sei secondo, nonostante ho 8 palle in faccia. Ma hai visto questo successo con le palle? Sì, corri corri. E tu? Paco. No, se ero il primo li devo, però. No, io una volta che sono arrivato il primo spino. Oh, lo vedo un minuto. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non ho va dire un Crecent dance. Non c'è, non c'è. Non c'è. Non c'è stato handspare. C'è, non c'è qua. Non. Non c'è gioia, proti da vo&e. C'è, quello dentro del piano. O, li del piano? questo gioco mi fai assai quando staviti stagione, mamma mia guarda la carta da me, questo gioco non cominciamo a mantenere ma che ragazzi capite che andavamo? un po' canone si spezzi lo sai sto facendo i megadrip si questo non mi è passato sto gioco io l'ho passato però fare i micro drop non vengono tutti quanti però che lo fanno la mia parte se gli altri tutti sono andati non lo so non lo so non lo so mi sono andati già non vediamo i lati già non vediamo i lati già mi è nudo con le mani in tasca mio zio si fa la scassetta nella casa fatti mandare dalla zia aprire il pane delle luci qualche fascia che riguarda il mio schermo che cuore la mano no, muro vabbè il curo va per noi se il bottone in faccio un muro qua si vuole fulgato cammule ah, si vuole fulgato si vuole fulgato si vuole fulgato si vuole fulgato mi sto scrivendo, un po' a sard si vuole una mano scupata stai mangiando il schiacciolo proprio ho fatto 4 minimi giochi e siete un attimo in 19 non so non so non so non so ma per me hai perso non so non so ma la speranza è l'ultima a morire di corpo infatti non so non so che cosa guarda che è duro stagione per ripartere oh nooo Oh no! E' un po' che giusto per sembra della roba! Si, questo è un po' che vuole fare.